A proposito di lavoro, cosa dici di quella nuova piazza che dobbiamo fare lì? Sì, manchiamo da cinque anni, per quattro giorni, mica se vale la pena rischiare di andare lì, se dopo non dovesse andare bene? Ma se vuoi la mia opinione io ci andrei, perché sono cinque anni che manchiamo. Speriamo che nel frattempo siano nati più bambini. Sono preoccupato anch'io, non nascono più bambini in Italia. Ascolta, la concessione a proposito ce l'hai? Sì, ce l'ho qua. Eccola. E questa qua? Eccola. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.